Cosa sa fare penso? A Nardò bisogna comandare, perché quello che è mancato a Nardò in questi ultimi anni è stato qualcuno che veramente comandasse, cioè prendesse le decisioni e si prendesse le proprie responsabilità, cosa in questi ultimi anni a Nardò non c'è stata. E quindi forse abbiamo bisogno di una figura di garanzia, una figura di fermezza, questo ci manca e speriamo, non so, speriamo di averla trovata. Nel nostro piccolo, io mi ritengo una persona coincisa, dare favole hanno passato gli anni per raccontare le favole, dobbiamo raccontare forse a qualcuno. Dico, gli ultra qui cantano vogliamo un presidente, questa è la cosa più importante. Io mi sento in questa peste uno di loro, però con saggezza, quello che possiamo fare lo devo dire, quello che non possiamo fare non me lo devo inventare. Ok, d'accordo.